Guarda, se io mi giro da questa parte verso il muro, mi si gira al contrario, la balestra la sto tenendo al... Chi è? No, noi vediamo questo. Comunque, bentrovati, amici, in questo gioco. Marco, stai zitto, sto facendo quello... È un gioco horror. Adesso io scelgo la località. Marco, Marco, basta. Marco, Marco! Scusate, scusate. Siamo già partiti, siamo già partiti. Prima, aprite la missione, forza. Marco! Non abbiamo detto neanche cosa si deve fare in questo gioco. È praticamente... È proprio il mistero, Marco. Come funziona? Vai. Sì, vuoi. Invece che fai lo stand, fai casino e poi scappi. Sono sui bracieri ardenti, come quelli di Voglio vederti danzare. Voglio vederti danzare. Come le zig... Marco, c'è uno dietro di te! È vero. Chi? L'ho impalato. L'ho impalato, ragazzi, tranquilli. Lo porto via. Buttalo di sotto, Marco. Lo fanno anche io. Drop o bobo. Ma me l'hai rubato? Qui si dà. Ma sì, dietro di te. Ah, ok. Lo l'ho buttato. A posto che mi sia fiumento, parendo. Così, guarda, guarda. Basta fare così, guarda. Prego? Prego, prego. Io filmo tutto, eh. Ah, bravo, era il contratto. L'ho preso. MA NO, HA TENUTO IL DRONE! VIEZAR! Ho perso il drone? Eh sì, hai perso il drone. Ma perché c'è un altro cadavere? È quello della stessa, Morelli. Mettetola che ha preso il volo. Ma come? Si è scoppiato? Non lo so fare. Buttatelo via, con calma. Malmiter! Tirati! No. C'è miseria. È andata in mano! Mamma mia, Marco! E quindi? Allora, selezioniamo per bene. Questa volta la facciamo a modo, eh. Vado! Che paura. Dai, partiamo... Carallo! Partiamo per questa missione incredibile. Guarda, guarda, guarda. Aspetta, la luce è questo? Registro, ho registrato. Ah, dovevi registrare? Ah, per gli api. Ok, lo registro anche io, per sicurezza. Chiudete. Questa porta. Scusate, che imbarazzo. Uff, che culo. Guarda. Come? Cosa? Sta arrivando, eh. Sta entrando, però tanto basta non fare... C'è la cassa, qua, c'è la cassa, morelli. Si, basta non far casino. Basta non far casino, che sono ciechi loro. Dobbiamo trovare l'evidenza in questa casa. Questa casa? Ma è quella esterna, eh. Fuori dal carrozzo, hai sentito, Liezar? Ho preso di quella esterna, mollo. Sono tre, sono. In questa casa tre, sono? Stanno parlando qua fuori, eh. Ah, eccole una. Che lingua è? Eh, non lo so, non capisco. Andiamo sopra, ragazzi? Eh, sì. Accendo la luce. Non accendo la luce! È lì! Aspetta, Marco! Ho fatto. Non fare rumore. È qui, eh. Ti staremmo... Prendetelo alle spalle. Cosa vuol dire, Frid? Bravo. L'avevi chiamata? Stava rispondendo al telefono. Non far casino, non far casino. Ah, bisogna trovare quello rapito. Moro, attento. No, Moro, è lì giù. Moro, penso. Sdraialo. C'è sta roba? Bello. Che paura, cos'era? È una trappola. È una trappola. È un tripwire. Non per me. Dovete saperlo anche voi? Carca merda! Ma come è scivolato gommoso! Ma dai, aiuto! Fermi, fermi. La prank call. Ma non c'era! Moro, Moro. Moro, è lì. Cavalco, lo buttano giù. Non c'è mai atterrato ogni volta. Ma che è sta prank call? È sta infine. Ehi, distratto. Ma chi è questo? Ma dai! Ma basta di far casino, andiamo via. Mi ha stordito. Ma non corre, casinisti. Ma dobbiamo entrare, sì. C'è una roba, c'è una cazza. Ok, c'è un laser. Sì. Ah, un evidence. Ok. L'iezza, entriamo di qui? Sì, entriamo di qua. Ok, dentro questa casa, io vado sopra nel tetto. Dai, ti prendo Marco, mi raccomando. Ti prendo al volo. Prendimi al volo. Parre! Eh! Ecco. Cosa succede lì? C'è del verde. Non fate le cose, non ci sono le telecambere. Accendete la luce, non si può? Ah, sotto ci sono i laseroni. C'è una cassa, però. Dov'è il punto? Ah, è lì, nel... Morelli, sei scemo, c'è di uno! Sento, stai in groppa, allora. E lo è in groppa. Bravo, more. Perché ricorrono le scuole piante. No, no, i laser! I laser! Ce n'è uno qui. L'ho visto. Ok, non mi ha visto. Ma che sono le batterie qua, e spero il taser. Dammi. Ah, il mostro può uscire da qui, ok. Sì, può uscire da lì il mostro. Sì, sono disgraziati. Ecco, l'ho uscito dalla porta. L'ho uscito, l'ho uscito, l'ho uscito, l'ho uscito. Via, via, via. Quanta roba c'è qui. Ah, ma il taser, non sono gli allarmi questi. Seconda. Ah, io mi ha preso. Ragazzi, mi ha preso. Che me, mi ha preso anche me. L'ho stordito. Non so che me è niente. Mi tiro i petardi. Marco, dove possiamo andare? E che ne so io. Dove è il nemico? The Shape of You, mi ha detto. Non c'è nemico. Palle, sono il Syran. Ok, il tizio non c'è. Moro, tu dove sei? Ah, merda, c'è uno qua. È uscito da qua. Ah, merda, via. Via, via, via. Sto arrivando da voi, mi sa. Ah, io mi ha preso qualcuno. Dove è sto... Efficente. Ma sto scappando su io. Aiuto, amici. E lì, voglio salvare. Vado su io. E niente, amici. Io sono tornato sopra tantissimo. M'ha stordito. M'ha stordito, niente. Dove cazzo amico? Mi sta portando via con i piedi. Anche a me. Veramente. Anche a me stanno portando via. Mi porta, mi porta via. Mi porta via, ragazzi. No, ti porto nella porta. Sto entrando nella porta, amici, entro in gna. Ah, sono in gna. E niente. Anche a me sta portando via. Anche a me sta portando via. Sono molto impressione. Buonasera, ti portano dal mostro, ti portano. Eh, sì. Adesso, dolcemente. Entro la finestra, vivendo. Sì, sono tutte sotto, quindi voglio andare giù. Andiamo subito. Ci sono le scarsegnate. Faccio una signorina. Aspetta che vi apro, eh. Scusami, ho vogliato. Che inglobamento di persone. Aiuto. Prego, prego. Sento ruttare dietro. Mi hanno sentito. Rutti. Come va via camminare? Non ti girare, Giazzola. Non ti girare. Il passato è passato. Marco è il Most Wanted, già è per dire. Com'è possibile? Come? È vero, è Most Wanted. Come ho fatto? Scusami. Ed for speed, Marco. Ma ero l'ultimo che stava andando più piano, scusami. Oddio, dove stiamo andando noi? In inferno? Eh sì, cosa succede? Porco Ortesi, per me. Ah! E cretini, poi sono il Most Wanted. Mi chiudete le porte di metallo nella tenda. Come si ramana, quello adesso? Oh, c'è il laser lì. Allora, quello lì ci deve essere il modo per... Eh, bisogna creare però, però io non poterle poterli volerli. Non... se gli sparate, non... Posso provare. C'è una giornata? Provo? Provo a sparare, Marco. Perfetto. Ok. Però possiamo andare sopra. Secondo me dobbiamo andare qua sopra, sì. Anche perché i passi vanno di qua, quindi. Dove stiamo andando? Chiudete gli occhi, i passi vanno di qua. Eh, c'è dei passi. Oh, Marco. Time call. Eh, c'è un tizio. Ah, ah, ah. Ho la Stangren, intanto. Basta di fargli le prank call esprit. È preso bene però, lo riprendo. Ma si può entrare? Sono due casse che dentro. Sono due casse qua. Come si entra qui? C'è, ma ci vuole il lockpick. Ce l'ho io. Vai. Piano, eh. Ottimo. Piano. Ok, noi smettiamo un dardo. Ah, un dardo. Due dardi. Che luce forte. Qua troppa luce, non riprendo. Due lockpick. Oh no. Eh, more... Merda, 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 c'è, non l'avevo visto. Ecco la luce, che cazzo serve. C'è. Sono giallo, ragazzi. Bravo. Ok, bravo, eh. Eh, ma che cacchio, chi è che c'è passato? Eh, mi sa io. È sopra qui, eh. L'obiettivo è sopra qua. Allora. Io non sono più most wanted, need for speed. No, è ora adesso. Eh, sono io. Qua? C'erano due flashbang dentro. Non si sa mai, possono servire. Ma bisogna stare attenti alle ciappole. Ma non ce l'ho bisogno di fare. Oh, c'è il drone, 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 sì. Sì, fatti vedere. È lì. Vai, vai, vai. Ok, ce l'ho lasso. L'ho steso. E questo rosso? Cos'è sta roba rossa? Eh, avete per disfruttare lì per radar lì? Ok. Ho finito, ho finito i dardi. Questo non mi vede, giusto, se passo? No, no. Ma no, bugiardi! Eh, presso, sta arrivando. Eh, sta arrivando. Non so, sta arrivando per me. Sta arrivando per me. È qui, merda. L'ho colpito, ragazzi. Sì? Se gli lancio i petardi. No, forse la flashbang. Stavo pensando alla flashbang, sì. Morelli. Provo? Prova. Aspetta. Ok. Assoluto funziona probabilmente qui. Guardi, qua c'è il mostro. Occhio. C'è un tizio che sta salendo le scale qui. Dove? Ah, eccolo sì. Lì, è dietro. Stavoce non ci vediamo. Tra l'altro è tutto insonorizzato qui. Sì, va, sì. Come dove? Eh, l'ho perso anche io. No, attento. Ho aperto, vado sotto. È uscito il mostro, è entrato dalla stanza. Non lo vedo più. Eh, qua di fronte a me, ma io scendo. Perché farlo fare io? Ah, merda. Ma sotto. Ma io. Eh, ma qua mi inseguo ormai. Sì, no, la strada è sbagliata. Mi ha preso, mi ha preso, ragazzi. Mi ha preso. Qualcuno può stordire? Grazie. Vai via Marco, vai via. Corriamo via, corriamo via. Dove faccio? Qua sopra io. Ah, di nuovo il mostro. Eh. No, ti ha preso. Mi ha preso. Quanto era una saccagna incredibile. Vabbè, penso che me ha preso sto mostro. Eh, sono in giro. No, niente. Quanto scappi. Eh, che devo... Il mostro deve essere qua adesso, quindi per sempre. Eh, sì, vai cap... Eh, guarda quanto scappa. Ah, mi hai fatto l'agguato. E scappo via, sono di sapone. Ma puttana, dove cazzo sei andato? Come hai fatto essere andato? Sono velocissimo. Ho ciobrelli. E niente. Ma... E fatti ne va. Troppo. Marco, è legato. Non è possibile, scappo veramente veloce. Mi sa che è dietro. Eh, sì, niente. Ma che parli. Non si può fare.